Si terrà giovedì 17 marzo la manifestazione conclusiva del laboratorio realizzato in occasione della festa di San Giuseppe nei locali del Consorzio Siciliano di Riabilitazione di Alcamo all'interno del Convento dei Frati Minori. A partire dalle 10.30, come da tradizione, si svolgerà la benedizione dell'altare dedicato al santo, allestito all'ingresso del CSR e curato nei minimi particolari dagli assistiti che hanno partecipato per circa un mese al laboratorio artigianale interamente dedicato alla realizzazione dei pani. Dal 12 febbraio scorso, circa 15 assistiti del semi-internato hanno frequentato le lezioni una o due volte alla settimana all'interno del laboratorio artistico del Centro Riabilitativo Alcamese. I maestri d'arte li hanno coinvolti, ognuno con le proprie capacità e abilità manuali, nella lavorazione dei pani, una sorta di catena di montaggio che ha portato alla realizzazione di splendidi e minuziosi fiori, foglie e forme tipiche del pane di San Giuseppe. Dopo aver completato la lavorazione, ieri i ragazzi del CSR hanno montato l'altare. Dunque tutto è pronto per la manifestazione di giovedì, alla quale parteciperanno anche i familiari degli assistiti e gli amici del CSR. L'evento, aperto al pubblico, prevede la benedizione dell'altare da parte di uno dei padri francescani del Convento dei Frati Minori e la distribuzione ai partecipanti del tradizionale pane di San Giuseppe.